Signor Sindaco Roberto Avogado, lei ha la sensazione di essere tornato a governare una città che ha veramente queste ferite? Ma probabilmente se non ci fossero state queste ferite non sarei qui adesso perché gli alassini magari avrebbero continuato sulla strada che avevano già scelto in passato. Effettivamente queste ferite ci sono, soprattutto sono ferite sulla collina che è stata oggetto di speculazioni molto anche feroci, molto insensate perché non hanno tenuto conto di quelle che erano le caratteristiche, non hanno avuto rispetto per nulla. Questo è un lavoro che la politica, una buona amministrazione può fare, recuperare con lo spirito. Le ferite invece sul territorio, sulla collina, nel verde, lei può impegnarsi a risanarle? Beh, ci sono situazioni che si sono purtroppo consolidate per cui ci sono state date delle autorizzazioni. Noi cercheremo di intervenire per quel che riguarda le modalità di esecuzione di certi lavori per poterne anche arrivare alla fine quanto prima e restituire quanto almeno una parvenza di abitabilità, di ospitalità alla nostra collina. Per il resto invece ci impegniamo a porre dei freni notevoli, dei limiti forti. Giovanna Faccio, presidente di Italia Nostra Alassino. Stiamo veleggiando, vorremmo dire, andiamo a montone, ma stiamo veleggiando davanti a Punta Murena, che è un luogo delicato, delicatissimo di questa costa di cui si parla da tanti anni e che rischia qualcosa. Sì, in effetti Punta Murena è un luogo particolare. È una villa con un parco, Villa Brunati, che è stata costruita prima della Grande Guerra, con un parco di più di 8.000 metri quadri, con una vegetazione molto particolare, mediterranea, pini, querce, un giardino con chioschetti, fontane, veramente molto particolare. Pensate che in questo giardino, in questa villa, ha soggiornato d'annunzio vari personaggi, letterati, poeti, eccetera. E al momento è stato approvato questo progetto di condono dei bungalow di legno che c'erano abusivamente, poi condonati appunto dentro il parco. E la volumetria è adesso, diciamo, resa usufruibile per fare delle edificazioni. Naturalmente questo comporta un grande sbancamento e quindi una ferita profonda in questo posto eccezionale per storia, memoria. Quindi voi cosa farete per oppure a questo? Ma noi abbiamo già fatto le nostre osservazioni, abbiamo già parlato in provincia, in regione, no, più che in provincia, in regione, alla sovrintendenza, eccetera. Penso che ormai, non lo so quali spazi ci siano, sicuramente noi ci teniamo che almeno il parco col verde siano preservati il più possibile. Stiamo circunnavigando la Gallinara, l'isola Gallinara, con il professor Alberto Benisceri, non solo un grande professore dell'Università di Genova, ma oserei dire un grande alassino, un grande conoscitore delle tradizioni e della storia di questi luoghi. La Gallinara, isola bellissima e quasi sconosciuta in Liguria. Perché secondo te? Ma sì, sconosciuta anche perché la Liguria molto spesso ha una posizione genovesicentrica, quindi le parti del ponente sono meno, sono più trascurate, magari più conosciute dai torinesi o dai milanesi. Per certi aspetti quest'isola si è difesa per una storia del tutto particolare, atipica, è stata difesa dai privati, o perlomeno per merito dei privati, che comprando si era impedito che venisse violata. E poi però è stata difesa da una politica attenta del comune di Albenga e della Liguria, della regione Liguria, che nel 1985, se ricordo bene, ha istituito un parco naturale per quello che riguarda la vegetazione dell'isola e poi un parco sottomarino. Resta un po' rammarico naturalmente che i turisti non riescono, ma tutti noi, anche gli abitanti di Alassio, di Albenga, non riescono a visitarla, a usufruirne, però è anche vero che la si può vedere e gustare un po' più da lontano e di fronte ai rischi che certi siti molto belli della nostra regione hanno avuto, poi di devastazione, tutto sommato va bene così.